Il covid-19 ha portato una disastrosa crisi economica a farne le spese, in particolare in questo periodo estivo sono anche gli operatori dello spettacolo che però non ci stanno e domenica 21 giugno si riuniranno a Buccino in provincia di Salerno per un evento unico, lo streaming festival, un modo per far sentire la loro voce e chiedere alle istituzioni di intervenire e di aiutare il loro settore. A raccontarci tutto è uno degli organizzatori, Salvatore Conforti. Il 21 giugno c'è uno streaming festival, così lo abbiamo chiamato, che è una sorta di meeting tra musicisti, tra la filiera della musica, fotografi, rappresentanti di hotel, di ristoranti, fiorai, insomma tutto quello che appartiene alla musica e tutto quello che si è fermato per l'emergenza covid-19. Sarà un grido di dolore e sarà un grido di dolore da trasmettere alle istituzioni, ai politici, a chi deve ancora mettere a posto le linee guida per far sì che si possano ricominciare le cerimonie, le feste, qualsiasi cosa che riguardi la musica, perché la musica ha un interesse anche economico importante. La filiera è veramente lunga. Quindi il 21 giugno faremo questo meeting che sarà online, naturalmente, sempre a norma del decreto. Saremo sul palco musicisti distanziati e avremo, naturalmente, il pubblico solamente di tecnici presso l'hotel Elia a San Gregorio Magno, a Buccino, e saranno presenti naturalmente anche politici, rappresentanti di tutta la filiera. Per questo motivo io vi invito a rimanere all'ascolto anche della televisione che state guardando in questo momento, perché anche da questa televisione sarà possibile magari dare uno sguardo a tutto lo show, a tutta la parte musicale che noi abbiamo trasformato in protesta. La musica che parla con la musica alla politica. Il ringraziamento lo voglio fare, mi devi permettere, a tutti coloro che sono intervenuti in questa manifestazione, che ci hanno dato un grande sostegno e anche, naturalmente, ai musicisti, che sono tanti, a Patrizia Volpe, che le sue emozioni e la sua musica sta controllando tutta l'organizzazione. Per cui vi invito a partecipare online, naturalmente, a questo streaming festival il 21 giugno, il 21 giugno che cade anche il giorno della festa della musica, non a caso, quindi riprendiamoci la musica, noi esistiamo.